Siamo con la dottoressa Comparone, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Succivo. Dottoressa, cambia la società, cambia la famiglia, cambia il bambino e la scuola? Dottoressa, cambia la scuola con queste tre cellule, le cellule devono diventare osmotiche, quindi insieme devono interagire, è un fatto di alleanza come avete sentito stasera, è alleanza tra la scuola, la famiglia e il territorio, una società che cambia, ma che cambia in un divenire di cultura e di esperienze, di istruzione. Dottoressa, la praticità del suo intervento sarà arrivato a chi doveva arrivare? L'intento era proprio quello, attraverso la testimonianza dei tre docenti, ma mancava una parte finale che era un genitore che ci aveva dato disponibilità, ma per situazioni di ritardo non è riuscita ad intervenire, volevamo proprio dare delle pillole di stereotipia e quindi non per questo polemizzare, ma far capire quali sono gli atteggiamenti e qual è il cambiamento. Grazie